Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città, buon martedì 20 luglio, una giornata all'insegna del sole, tra poco vedremo come si svolgerà dal punto di vista meteorologico la giornata di oggi, intanto vi anticipo alcune notizie di viabilità, questa notte da 1 alle 3 ci sarà la consueta chiusura del sottopasso di Portapalazzo per le operazioni di pulizia meccanizzata, invece quest'oggi vi segnalo un divieto di transito per lavori ed illi in via Principetto Maso, tra Corso Marconi e via Giacosa, un semaforo in manutenzione che è quello, anzi sono quelli in Corso Toscana all'angolo con via Borsi e poi da questa mattina vi segnalo che è attivo il cantiere di rifacimento del manto stradale dell'incrocio tra i corsi Regina, Svizzera e via Pianezza, si tratterà di rifare l'asfalto, sono lavori che dureranno circa un mese, ci saranno dei restringimenti di carreggiata per consentire appunto l'asfaltatura, questo ovviamente visto il punto nevralgico della città potrà dare luogo a dei rallentamenti. Passando alla situazione del tempo, come vi dicevo oggi è una giornata di sole, un clima tutto sommato più piacevole rispetto ai giorni scorsi, siamo intorno a 27 gradi come temperatura dell'aria già questa mattina, non c'è un grande discostamento tra la temperatura dell'aria e quella percepita perché l'umidità è abbastanza bassa, siamo intorno al 36%, per la giornata di oggi dobbiamo attenderci temperature comunque al di sopra dei 30 gradi, però con le temperature percepite arriveremo al massimo a 34-35 gradi, questo appunto perché l'umidità media non salirà al di sopra del 50%, vi segnalo soltanto nella fascia oraria dalle 12 alle 15 ci sarà un irradiamento solare abbastanza forte con valori di indice UV superiori a 8, quindi particolare attenzione soprattutto per i bambini nelle categorie più a rischio nell'esposizione solare, vi segnalo poi anche che dalle 19 è possibile che si verifichino delle piogge che potrebbero assumere anche carattere di temporale nella serata e nella notte man mano che ci si avvicinerà alla giornata di domani. Gli appuntamenti istituzionali di oggi, vi segnalo alle 10.30 la giunta comunale come ogni martedì, poi alle 12.30 ci sarà una conferenza stampa congiunta tra il sindaco Chiamparino, il presidente della regione Cota, l'assessore Sestera e l'assessore ai trasporti della regione Piemonte, si parlerà di trasporti proprio su base regionale, alle 14 la conferenza dei capigruppo e poi due inaugurazioni, alle 18 il sindaco sarà presente all'inaugurazione del centro congressi CIF Oil in via mestri del lavoro numero 10 e alle 18.30 invece gli assessori Sestero e Alfieri inaugureranno una scultura di Massimo Ghiotti nella spina 3 nell'area ex Metec. Passiamo a Torino Click, l'agenzia quotidiana della città che trovate in formato pdf sulla nostra homepage, abbiamo scelto due notizie per voi dall'edizione di ieri riguardano entrambe eventi culturali, ieri è stato presentato in una commissione consigliare il programma della Fondazione Teatro Stabile per quanto riguarda le celebrazioni dell'Italia 150, sono tre le frecce nell'arco della fondazione, le produzioni del teatro, la sua programmazione ordinaria e poi l'allestimento di una mostra alle OGR, le officine grandi riparazioni che si chiamerà Fare gli italiani. Quarto pilastro di questa campagna per l'Unità d'Italia è l'idea di una rassegna teatrale che si svolgerà interamente alla Cavallerizza a cavallo dalle stagioni 2010-2011 e 2011-2012 raccogliendo spettacoli da tutta Italia. L'altra notizia invece riguarda una mostra che apre questo mercoledì alla Venaria Reale, si tratta delle macchine della meraviglia, lanterne magiche, film dipinto 400 anni di cinema, una mostra appunto dedicata alle lanterne magiche, quei dispositivi che hanno anticipato in qualche modo la nascita del cinema, sarà in esposizione alla Venaria Reale fino al 7 di novembre nei piani alti della Reggia. Per informazioni potete andare sui siti www.lavenaria.it e www.museonazionaledelcinema.it Ora passiamo sulla nostra home page, andiamo a vedere la notizia che abbiamo scelto per voi questa mattina, tra quelle pubblicate nella nostra prima pagina, si tratta del progetto Casa che è dedicato ai giovani tra i 20 e i 30 anni che sono residenti a Torino e che vogliono andare a vivere per proprio conto. La città e la compagnia di San Paolo hanno messo a disposizione un prestito d'onore fino a 3.500 euro senza interessi da restituire entro tre anni per agevolare proprio questa uscita di casa. Trovate tutte le informazioni a partire dalla notizia e collegato anche il recapito dello sportello dedicato da Torino Giovani. Un'occhiata al traffico in città, l'andiamo a dare con le telecamere del Consorzio 5T, qui siamo in Corso Agnelli, angolo Corso Cosenza, in direzione ovest su Corso Cosenza, come vedete abbiamo un traffico abbastanza intenso questa mattina. Corso Moncalieri, direzione nord, sull'asse del fiume Po non ci sono problemi in questo momento, il traffico scorre è abbastanza fluido. Qui passiamo invece in piazzale Caio Mario in direzione sud, come vedete abbiamo un po' di auto in ingresso sul piazzale ma non ci sono neanche qui particolari problemi per la circolazione e neanche alla rotonda Maroncelli in direzione di Corso Unità d'Italia, lo vedete, la situazione è abbastanza fluida. Bene, è tutto anche per questa mattina, grazie per averci seguito, ringrazio Mario Parena per la messa in onda e a voi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.